Leonardo Silva Revisore Revisore Viaggiando in giro per il mondo e incontrando le persone, spesso sono accolto, insieme al team al quale ho la fortuna di fare parte, con grande entusiasmo. Con le frasi del tipo «Ma è straordinario quello che state facendo! Ma che bello! Ma voi veramente cambiate il mondo!» E poi, quasi sempre, la domanda. Perché lo fai? Sì, perché le nostre vite sono essenzialmente una sequenza di eventi ai quali spesso chiediamo il perché. E io credo che questa è una domanda fondamentale. nato in Brasile, in un circo, i miei genitori naturali erano una veterinaria brasiliana e un domatore di leone di origini napoletane. Credetemi, in quegli anni mi chiedevo come mai fossi nato in una famiglia, diciamo, peculiare. Anni dopo, per fondate ragioni, quando l'assistenza sociale intervenì e decidese di allontanare mio fratello ed io dalla sua famiglia per affidarci a un orfanotrofio, mi sono chiesto perché di questo cambio di circostanze. All'età di dieci anni, quando una coppia senza figli decise di adottare questi due bambini e dare a loro una nuova opportunità di vita, mi chiesi perché questo colpo di fortuna. all'età di 26 anni, quando mio fratello muore in un ospedale, proprio di fronte alla sua nuova famiglia, ancora una volta mi chiesi il perché di questa tragedia. I perché cambiano la nostra vita. E credetemi, i perché possono cambiare anche il mondo. e io questo l'ho scoperto proprio in questo momento. Con il mio amico guardavo il mare e apprezzavo una bella giornata di sole. Ed ho capito in quel momento, ho preso coscienza, che noi viviamo in un pianeta la cui superficie è coperta per il 70% da acqua e sopra le nostre teste brilla una fonte di energia illimitata pulita e gratuita. Quindi di fronte a queste risorse illimitate mi sono detto perché un miliardo di persone oggi non hanno accesso all'acqua potabile. sono 5.000 persone che muoiono ogni anno per il fatto di bere acqua contaminata. Quasi 2 milioni all'anno. Eppure le Nazioni Unite hanno dichiarato questo, l'acqua, un diritto umano fondamentale. Quindi noi stiamo violando essenzialmente un diritto umano nel momento nel quale non diamo acqua ai popoli senza poi contare il fatto che 2 miliardi di persone non hanno ancora accesso all'elettricità. Quindi vivono sostanzialmente come i nostri antenati vivevano secoli fa. e vogliamo parlare dei 5 miliardi di persone che sono completamente disconnessi dall'educazione, dall'informazione non appartengono al secolo XXI. Colmare il divario che esiste tra noi e i miliardi di persone che abbiamo lasciato dietro di noi rappresenta una sfida, la sfida più importante socialmente, economicamente, dei prossimi vent'anni, del prossimo secolo. Essenzialmente, non possiamo però pensare di creare un benessere a livello mondiale usando quelle stesse tecnologie che hanno creato il nostro di benessere. perché queste tecnologie in parte stanno distruggendo il nostro pianeta stanno creando conflitti fra i popoli e stanno probabilmente anche decidendo la fine della nostra civilizzazione. Le più grandi sfide a livello mondiale sono quelle che richiedono i più grandi cambiamenti quindi noi dobbiamo pensare a un nuovo paradigma. ma sapete la bella notizia? È che lo stiamo già facendo. Noi stiamo costruendo macchine che funzionano con energia solare. Possono essere installate in pochi giorni in qualunque parte del mondo. Queste macchine, queste tecnologie sono capaci di purificare l'acqua solo con la forza del sole da qualunque tipo di contaminazione sia essa fisica, batteriologica e chimica. dessalizzano l'acqua del mare puliscono l'acqua dei stagni, dei pozzi, dall'arsenico dai metalli pesanti dal cianuro qualunque sostanza sono anche capaci di generare elettricità fuori dalla rete e sono dei computer che permettono un sistema di telecomunicazione avanzato in tutto il mondo. Una macchina come questa impatta positivamente una comunità di 3.000 persone. Però migliaia di macchine come questa possono impattare l'umanità beneficiando il pianeta Terra. queste macchine assieme creano la cosiddetta Energy Net. Che cos'è la Energy Net? La Energy Net sono macchine scalabili, intelligenti, versatili connesse fra di loro si comportano come dei computer quindi scambiano dati, informazioni ma qui Internet si fonde con il concetto di acqua e di elettricità. Questa è la reale Internet delle cose dove non ci sono cose e dove non c'è ancora Internet. Questa è la più grande rivoluzione tecnologica dei prossimi vent'anni e le macchine che sono infrastrutturali a questa struttura assomigliano proprio a questa. Questo è il primo computer termodinamico del mondo e si sta costruendo in Italia. Ovviamente rappresenta il risultato finale di tre anni di duro lavoro da parte di un team dedicato un team che non ha mai accettato l'idea che certe cose non si potessero fare e sicuramente non ha mai accettato l'idea che certe cose non si dovessero fare. Sono macchine capaci di essere sviluppate con un processo intermedio noi le abbiamo provate le abbiamo costruite le abbiamo testate le abbiamo portate anche nel cuore del problema in Africa. E credetemi abbiamo visto con i nostri occhi che cosa vuol dire portare il ventunesimo secolo a questi popoli liberarli permettere a loro di accedere alla vita accedere all'energia di cui hanno bisogno ma ancora più importante accedere al loro futuro. durante questo cammino quello che io personalmente ho capito che queste tecnologie non ci fanno più ricchi o più potenti queste tecnologie liberano i popoli e danno a loro la pace. io ho capito nel corso di questi anni che ciò che facciamo cambia il mondo per un momento ma il perché lo facciamo può cambiare il mondo per sempre se cerchiamo dentro di noi il perché della nostra vita creeremo fuori di noi il cambiamento che abbiamo sempre desiderato. Grazie della vostra attenzione.